E' il primo museo italiano amico della Cina. Parliamo del Mart di Rovereto in provincia di Trento che grazie al nuovo sito internet con la pagina in cinese e alla segnaletica con gli ideogrammi è stato premiato dall'associazione Italy China Friendly. Con queste innovazioni il Mart è così pronto ad accogliere il flusso di visitatori orientali che secondo le ricerche di settore cresce sempre più anno dopo anno.